risponde la segreteria telefonica di John lasciate un messaggio dopo il bip io sono precisamente da 8 minuti cercando di capire che che maronna è scritta la sua come cazzo si chiamano sui cosi? popote mi in atti open ma c'è su cristo mi hai fatto fare una tavola di carta effettivamente che che maronna moriscono però sei adorabile così non so scorda cioè tuttora si scordano come si riesce ma non si scordano con il disco tuo perché te la stimano e arabe facebook e non va niente buono e arabe instagram e non va niente buono e arabe baratta le nutelle e non va niente buono 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 comunque giusto per fartelo notare oggi mi è capitato di sentirmi al loop l'intero album per tre volte di seguito sta ne scende una bellezza davvero mi è piaciuto e la cosa bella come il reprise riattacca con l'intro e con quello che tu dici nel reprise si attacca con le voci registrate dell'intro è davvero bello penso che se è un album che parli molto della libertà d'espressione ed è bello davvero bello complimenti frate davvero un bel lavoro pronto? ma chi cercate? ma avete sbagliato questa è casa amatore arrivederci